Chiusa la lunga parentesi degli incidenti probatori è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini alle parti. Entra così nella fase cruciale la vicenda giudiziaria sulla morte di Giuseppe Acovone, il polizzotto in servizio alla squadra volante di Isernia, che alla fine di marzo del 2012 perse la vita durante l'inseguimento a un SUV sulla statale 85 Venafrana, all'altezza di Macchia di Isernia. Quanto prima infatti sarà fissata l'udienza preliminare per decidere sull'eventuale rinvio a giudizio dell'unico indagato per la morte dell'agente originario di Capriate a Volturno. Si tratta di un noto medico di Isernia indagato per resistenza pubblico ufficiale, morte derivante da altro reato. L'uomo, stando a quando emerso dalle indagini condotte dalla polizia stradale, era alla guida di un SUV di marca Audi. Sembra che procedesse a velocità sostenuta. Iacovone e il suo collega di turno quel pomeriggio lo videro e lo inseguirono. Nel territorio di Macchia di Isernia la tragedia. In curva alla volante della polizia si schiantò contro un tir. Iacovone perse la vita poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il collega rimase ferito. Le indagini della polstrada portarono all'identificazione del conducente del SUV. Alcuni testimoni dissero anche di aver riconosciuto la persona alla guida del SUV. Ma ora la parola passa di nuovo ai giudici o per essere più precisi al giudice per le udienze preliminari. L'udienza sarà probabilmente convocata nel mese di ottobre. A metà settembre infatti sarà diventato effettivo il trasferimento di Roberta Donofrio. Potrebbe quindi arrivare almeno temporaneamente il giudice Elena Quaranta che tra l'altro ha già lavorato al tribunale di Isernia.